Signore e signori, Teresa De Sio. 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 stupenda Teresa. Senti, io volevo chiederti subito una cosa. Innanzitutto presentarti Cirenaica Malacarna. Teresa Vesio Cirenaica. Dov'è? Di Ottaviano? No, no, non è di Ottaviano. È di Zagabria. Ah, è a Roe? È di Yugoslavia. Yugoslavia, sì. Io sono stata a Yugoslavia, in Turchia, dappertutto in Abu Dhabi. Sono stata un po' da... No, no, io sono la Taviano Porcella. E poi grande lancio il TV. Sì, ma il TV è stato un caso, sai. Senti, piuttosto, dopo Cirenaica ti farà l'oroscopo, io volevo subito farti una domanda che tanto mi ha impensirito. Tu, prima di lanciarti, diciamo, lanciarti nel senso proprio più sfacciato della parola, con Fantastico 4, eri, diciamo, una delle leader della musica nuova, di quel complesso, che era una musica, faceva una musica intellettuale, diciamo. Come mai hai deciso di passare così, immediatamente, cioè immediatamente, nel giro di poco tempo, da questa musica impegnata, se così si può dire, a questa musica più sfidiosa, per dirla in un termine che userei di tutto. Sì, sarò a breve, un po', insomma. Devi sapere che negli anni settanta, tutto era intellettuale. Noi non facevamo nulla. Non facevate niente? In che senso? Perché io ero in un'altra musica. Ma no, cantavamo così tanto per cantare. Ecco. Eppure ci hanno dato dell'intellettuale.